Buon pomeriggio a tutti e a tutte. La morte di Gesù è strano che sia uno psicanalista a parlarvene. Non un teologo, non un uomo religioso, ma qualcuno che quotidianamente incontra in modi più diversi l'esperienza della morte nel racconto dei suoi pazienti, attraverso la malattia, la sofferenza, i lutti, da trent'anni. E che è al tempo stesso, e questo mi autorizza a parlare di Gesù, un lettore dei Vangeli, un lettore del testo biblico. Chi conosce il mio lavoro sa che è uscito recentemente, ormai quasi due anni fa, un volume ampio sui rapporti tra psicanalisi e l'Antico Testamento. E a maggio finalmente completerò questo lungo percorso su un libro sui rapporti tra la psicanalisi e i Vangeli. Quindi ecco, queste due cose mi autorizzano con molta umiltà a prendere parola su un tema così difficile. Partirei da una considerazione molto generale. La morte nella forma umana della vita porta con sé sempre un'ingiustizia. Dovremmo dire addirittura un'ingiustizia atroce. Come diceva Anna Arendt, gli esseri umani non sono fatti per morire. Gli esseri umani sono fatti per nascere. Per nascere infinite volte. Potremmo dire già, annunciando un tema di quest'oggi, che gli esseri umani non sono fatti per morire, sono fatti per risorgere. E dunque la morte nella forma umana della vita è un'ingiustizia. Cioè è sempre, arriva sempre, dico sempre, prematuramente. Anche per un grande anziano, arriva sempre, prematuramente. Perché la vita vorrebbe che ce ne fosse ancora. Perché la forma umana della vita vuole che ci sia ancora della vita. E quindi da questo punto di vista la morte porta con sé sempre un trauma, una violenza. Non c'è mai naturalezza nella morte. Insisto su questo punto come introduzione. Perché la forma umana della vita, se muore sempre prematuramente. Cioè è sempre in anticipo. Sempre troppo presto. Perché ne vorrebbe ancora di vita. Ci dice la differenza profonda tra, per esempio, la morte di un essere umano e la morte di una foglia. La foglia, l'ape e la formica muoiono naturalmente, esaurito il loro ciclo vitale. La foglia, in questa stagione, si stacca dal ramo. La formica esaurisce la sua spinta vitale. Questi esseri vegetali, ma lo metto tra virgolette perché il tema sarebbe molto ampio, animali, periscono, direbbe Hegel, ma non muoiono. Cioè periscono nel senso che obbediscono alla legge che regola il ritmo della natura. Diversamente nella forma umana della vita abbiamo detto che la morte è sempre innaturale. Troppo presto. Troppo in anticipo. Allora, potete capire da qui l'importanza di una formula che trovate nel cosiddetto Antico Testamento. In un libro che una volta commentai, proprio in queste giornate torinesi, che si chiama Coelet, che è tradotto in italiano con l'ecclesiaste. In questo libro voi trovate una formula che è divenuta una formula di uso comune. Si ascolta ai funerali, a volte si ascolta anche nei bar. La formula del predicatore, dell'ecclesiaste è tutti noi abbiamo i giorni contati. La vita è Evel, la vita è un soffio, è un attimo. E in questo attimo l'essere precipita nel nulla. Tutti noi abbiamo i giorni contati. Gli ha contati la foglia, gli ha contati la formica, gli ha contati l'ape, gli ha contati la vita umana. Qual è però la differenza? Se prendiamo sul serio questa formula tremenda dell'ecclesiaste. Abbiamo tutti i giorni contati. La differenza è che noi li contiamo. Semplice. Non li conta la foglia, non li conta la formica, non li conta l'ape, non li conta il cane, i cani che noi amiamo. Non li contano. Noi li cominciamo a contare in fondo dal primo respiro. Contiamo i giorni. C'è una scena esilerante di un film di Moretti di cui non ricordo il titolo, forse aprile, in cui c'è la teoria del metro. Non so se avete in mente, Moretti dice che la vita è come un metro, ai 50 anni sei qui, 60 qui e poi i giorni che restano sono sempre di meno. Come dire che noi cominciamo a morire da quando cominciamo a nascere. Ecco la differenza tra noi e le altre forme di vita. Tutto questo per dire che il giudizio che Freud dava, direi anche sulla figura di Gesù, ma più in generale sull'uomo religioso e sulla religione in quanto tale, al di là delle sue diverse declinazioni, il suo giudizio era, in fondo, l'uomo religioso si comporta nei confronti della morte e della inesorabilità e della inesorabilità della morte, che abbiamo spiegato fino a qui, si comporta come un bambino. Cioè è spaventato, è terrorizzato, è angosciato e si rifugia, proprio perché terrorizzato, spaventato e angosciato, si rifugia dietro lo scudo del padre. Questo padre prende il nome di Dio. Quindi, di fronte alla difficoltà di assumere la dimensione più scabrosa, traumatica, atroce della morte, l'uomo religioso invoca Dio come grande protettore, che avrebbe il potere di salvarlo dalla inesorabilità della morte. E di qui Freud aggiunge anche le filosofie che teorizzano, e ha in mente soprattutto la filosofia greca, che teorizzano l'immortalità dell'anima, sono tutti rifugi infantili di fronte alla difficoltà di assumere in modo adulto il fatto che i nostri giorni su questa terra sono giorni contati. E' un giudizio, come dire, che non lascia scampo, no? La religione sarebbe, la religione, i comportamenti religiosi, Gesù stesso, in fondo, come il fondamento della religione cristiana, ebbè, la religione sarebbe una fuga dalla realtà. La realtà è troppo dura, è troppo aspra, è troppo ingiusta, si potrebbe dire, meglio fuggire, appunto, sotto le coperte, come farebbe un bambino, con un temporale, fuggire sotto le coperte del discorso religioso. Tutto il lavoro che sto facendo in questi anni è, con tutto il rispetto, nei confronti del padre della psicanalisi, quindi di cui io sono figlio, diciamo, simbolico evidentemente, è di problematizzare il giudizio di Freud sulla religione. Per esempio, se noi adesso entriamo nel tema, Gesù non è un immortale. Come immortali sono, per esempio, gli dèi pagani. Gesù, diversamente da quello che pensa Freud, fa esperienza traumatica della morte. E di questo parleremo. Quindi incontra la morte. E quindi è l'opposto di quello che Freud dice sulla religione. Cioè, se la religione sarebbe una fuga dal reale traumatico della morte, ma la vicenda di Gesù ci spiega il contrario. Cioè, che Gesù non arretra, non fugge, avrebbe potuto farlo nel Gezzemani. Non fugge, non arretra, non scappa, non si nasconde di fronte alla morte, ma attraversa il buio della morte. Anzi, si potrebbe dire che Gesù è veramente il rovesciamento di tutti i sofismi filosofici sulla morte, tra cui il più noto, come sapete, quello di Epicuro, che dice che la morte non sarebbe un problema per la vita, perché fin quando c'è la vita, non c'è la morte, e quando c'è la morte, non c'è la vita. E a partire da questo sofisma logico, Epicuro deduce che è assurdo avere paura della morte. Perché finché noi siamo vivi, non siamo morti, e quando siamo morti, non siamo vivi, dunque la morte non fa parte della vita. Ma la nostra esperienza, come in questa sala, credo tutti noi sappiamo, contesta Epicuro. perché noi contiamo i giorni che mancano. Noi facciamo esperienza della morte dell'amico, della morte del padre, della morte dell'amore, della morte della sorella. L'esperienza della morte è un'esperienza della vita. La morte è una piega che non si può spianare della vita. E questo Gesù direbbe a Epicuro, cioè contesterebbe innanzitutto, diciamo così, contesterebbe innanzitutto la tesi filosofica, appunto, che tra la vita e la morte c'è una esclusione reciproca. Quando c'è vita non c'è morte, quando c'è morte non c'è vita. Ed ecco perché, se prendiamo Gesù che si accosta al dramma della morte, nel Gezzemani. Su questo ho dedicato uno studio particolare, quindi non mi voglio soffermare sull'esperienza del Gezzemani. Ma insomma, ricordiamo solo che nel Gezzemani, dove il corpo di Gesù è un corpo, come racconta Luca, che suda sangue, quindi un corpo che trema di fronte all'evento imminente della passione e della morte. Un corpo che trema, un corpo spaventato, un corpo angosciato, un corpo abbandonato dai suoi discepoli che non sanno nemmeno sopportare la veglia, che si addormentano mentre Gesù è confrontato con il suo destino mortale, imminente. Ricordiamoci che è un uomo di poco più di trent'anni, cioè nel pieno della vita. Nel pieno della vita. Ebbene, in questa situazione, che come vedete è il rovesciamento della postura imperturbabile di Socrate di fronte alla morte, come Platone racconta, quando Socrate decide che per difendere la verità è disposto a morire e assumere dunque la cicuta, lo fa in modo imperturbabile, lo fa senza tremare, senza angoscia. E vedete invece l'umanità di Gesù che come tutti noi di fronte alla possibilità della morte, anzi all'imminenza della morte, trema. Trema, non solo trema, su da sangue, dice Luca, appunto, ma si rivolge al proprio Dio, al proprio Padre, con due preghiere differenti. Tutto il mio libro sui Gezemani ruota attorno a questa duplicità della preghiera di Gesù su cui non voglio soffermarmi, ma vi ricordo solo la prima preghiera. Il contenuto della prima preghiera di Gesù è, lo traduco con le mie parole, ma insomma, la sostanza di questa preghiera è lasciami vivere. Lasciami vivere ancora. Non voglio morire. Allontana dalla mia bocca il calice amaro della morte. supplica il proprio Padre per fare una eccezione, per risparmiargli la vita. Tutta la prima preghiera è la preghiera umanissima di Gesù, che precede la seconda che solo accenno che è quella attraverso poi però un movimento molto particolare che si sviluppa nel Gezemani che è quella non sia la mia volontà a farsi, sia fatta la tua volontà. E dunque Gesù si consegna disarmato, diciamo così, al proprio destino. Ma se noi prescindiamo dalla seconda preghiera e manteniamo la lente di ingrandimento sulla prima preghiera, nella prima preghiera Gesù chiede di vivere. Non vuole morire, non vuole la croce. Chiede di vivere. Perché chiede di vivere, Gesù? Chiede di vivere perché il cuore della sua predicazione è la vita. Cioè Gesù insegna costantemente che ciò che ha valore è la vita quando la vita sa essere viva. Si potrebbe dire così, è il contenuto extra morale della predicazione di Gesù. Gesù non si interessa mai del buono e del cattivo. Direi di più che non si interessa del bene e del male dal punto di vista morale, cos'è bene e cos'è male. A Gesù interessa una cosa fondamentale, potrei mostrarvelo, diciamo, ma avrei bisogno in molto tempo, che è la tua vita è viva. Sei stato in grado di rendere la tua vita viva? O hai vissuto come un morto? O la tua vita è un'ombra della vita? O la tua vita è priva di vita? O la tua vita è biologicamente viva, certo, ma assomiglia alla vita di un morto? questo è un punto molto importante ed è il cuore della predicazione di Gesù, cioè chi si allontana dalla legge, chi non rende la propria vita viva, chi vive come un morto, chi vive nel sacrificio, chi vive rinunciando al proprio desiderio. E l'appello di Gesù è, quando dice, per esempio, Matteo, l'albero si giudica dai frutti, l'appello di Gesù è a fare in modo che la nostra vita sia in grado di generare frutti. La vita viva è la vita in grado di generare frutti, cioè la vita in grado di portare con sé, come direbbe Paolo, una sovrabbondanza della vita. E la vita che cade nel peccato è la vita che non sa amare, cioè è la vita che non sa essere viva, è la vita che si chiude, avida, è la vita dei sacerdoti, è la vita dei custodi del Tempio, è la vita di coloro che non sanno amare. Allora, la vita viva sarebbe la vita capace di amare, cioè capace di essere sovrabbondante, cioè capace di generare frutti, la vita che cade nel peccato non cade nel peccato perché compie gli atti impuri, come si diceva una volta, non cade nel peccato perché come dire trasgredisce i precetti, questo è proprio va tutto sfogliato il discorso di Gesù da questa parte inessenziale, quando cade nel peccato? quando vive morta, quando rinuncia alla vita, quando, usiamo le parole di Gesù che ritornano come un martello in tutti i Vangeli, compreso quello di Giovanni, quando la vita ha paura della vita. Il peccato della vita è quando la vita ha paura della vita. ci ricordiamo la scena bellissima di Gesù sul lago di Tiberiade, la tempesta, le forze della natura, lui che dorme tranquillo nella barca, i suoi spaventati, terrorizzati, lo svegliano e dicono abbiamo paura, abbiamo paura. E lì non c'è semplicemente il dominio del Dio sulle forze della natura, placa la tempesta, ma in realtà Gesù ha in mente di poter placare la paura della vita. E la paura della vita, placare la paura della vita significa placare la paura della morte. Perché la paura della vita e la paura della morte sono la stessa paura. Cioè la paura nei confronti della tempesta, appunto, di qualcosa che noi non possiamo governare, non possiamo controllare, possiamo solo amare, ma ogni volta che noi sappiamo facciamo noi, noi umani, un'esperienza d'amore, è il punto che unisce l'amore alla morte, come racconta il Cantico dei Cantici nell'Antico Testamento, sappiamo che il punto che unisce l'amore alla morte è il fatto che entrambe queste esperienze oltrepassano il nostro io. noi non possiamo controllare, governare né la morte né l'amore. È per questo che alcuni vivono come morti, rifiutando l'amore, perché l'amore è sempre una catastrofe, un cataclisma, un terremoto che scompagina il nostro ordine e in questo senso assomiglia alla morte. Dunque Gesù nel Gezzemani prima preghiera chiede al Padre lasciami vivere. Io trovo bellissima questa invocazione. Cioè Gesù non vuole risorgere. Attenzione. In questo assomiglia qui, perdonate, questo è il mio fantasma infantile da bambino mentre facevo catechismo e nonostante i miei catechisti mi innamoravo di Gesù c'era c'era negli anni vi parlo della fine degli anni sessanta io avevo otto anni nove anni c'era in quegli anni la RAI trasmetteva l'Odissea con la prefazione di Giuseppe Ungaretti ve lo ricordate col basco io un bambino guardavo Giuseppe Ungaretti che introduceva un libro che per me è diventato altrettanto importante del testo biblico l'Odissea e lì c'era la figura di Telemaco c'è un'altra figura di figlio e allora ecco io ogni tanto in cortocircuito mi chiedevo da bambino ma viene prima Telemaco o Gesù? perché entrambi se ci pensate sono figli che hanno qualche problema con i padri cioè l'elemento che accomuna Telemaco a Gesù è che il padre in entrambi i casi è assente si può leggere tutto il Gezzemani come una grande esperienza dell'assenza e del silenzio del padre Dio non risponde alla preghiera lascia Gesù solo abbandonato abbandonato e Telemaco non ha mai visto il volto del padre e lo rivedrà solo quando il padre dopo vent'anni tornerà a Itaca cioè entrambi fanno esperienza dell'assenza del padre sia Gesù che Telemaco allora perché sono ho fatto questa piccola 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 premessa perché mi viene alla mente ecco ma mi è venuta alla mente ora che quando dico Gesù vuole vivere preferirebbe vivere che risorgere perché chiede di essere vivo continuare a vivere ama bere beone lo chiamano ama mangiare mangione lo chiamano ama stare in compagnie femminili lo chiamano in un certo modo anche su quello cioè un uomo che ama è anti ascetico tutta la predicazione di Gesù è anti ascetica è sprofondata nella vita nella pienezza della vita ci ricordiamo la scena meravigliosa che precede la passione quindi precede il Gezzemani quando Gesù sa del suo destino e si lascia ricoprire con un unguento profumatissimo dalle mani dolcissime della donna di Betania che lo massaggia lo ricopre d'olio profumato prima di affrontare il dramma del Gezzemani e il dramma della morte c'è questa scena di un erotismo diffuso una dolcezza diffusa sensuale della vita a cui Gesù non vuole rinunciare ed è la stessa cosa che capita a Ulisse ecco questo piccolo fantasma personale quando Ulisse Nausicaa gli dice ma se tu rimani con me tu diventerai immortale e Ulisse dice no non mi interessa io voglio tornare a Penelope voglio Penelope non voglio essere immortale bellezza questa cioè la vita che vuole essere umanamente viva non viva come un Dio voglio essere nel letto con Penelope dopo vent'anni possiamo immaginare Ulisse dopo vent'anni e Gesù lo stesso cioè l'amore per questa vita per Ulisse conta più dell'immortalità e per Gesù l'amore per questa vita almeno in un primo momento nel Getsemani sembra come dire essere un amore un amore insostituibile ecco perché noi non dobbiamo mai confondere adesso fra un po' entro nel tema non dovremmo mai confondere nella la resurrezione di Gesù con il tema pagano diciamo così dell'immortalità Gesù non è un immortale Gesù fa esperienza della morte diciamolo più semplicemente Gesù muore sulla croce fa esperienza della morte e casomai il tema che noi dobbiamo sciogliere fra poco ci provo è questa formula che trovate negli atti degli apostoli quando Gesù dice io sono morto ma vivo per sempre questo che ci interessa cioè non c'entra l'immortalità io sono morto e in quanto morto così leggo io che ripeto non sono un uomo religioso non sono un teologo sono un laico io che sono morto in quanto morto vivo per sempre vivo per l'eternità questo vorrei provare con voi a decifrare questo enigma di Gesù e per aiutarci a decifrarlo cito l'unica formula che vorrei commentare nel dettaglio molto semplice che si trova in Luca vi ricordo la scena Gesù Getsemani processo calvario crocifissione sepolcro e della Pasqua cristiana il giorno della Pasqua cristiana appunto delle donne tra le quali c'è Maria Maddalena vanno al sepolcro sperando che qualcuno sposti la grande pietra che chiudeva il sepolcro per imbalsamare diciamo il corpo di Gesù vanno a portare il loro cordoglio al corpo morto di Gesù e lì incontrano degli uomini degli angeli non sappiamo bene le versioni cambiano insomma tra gli evangelisti ma il punto è cito solo Luca incontrano un angelo cioè qualcuno che porta un annuncio che gli dice bellissimo questo passaggio molto bello gli dice perché cercate a queste donne perché cercate il vivente tra i morti non è qui è risorto ecco questa è la frase che è una frase di straordinaria potenza allora perché venite a cercare qui cioè nella tomba nel sepolcro il vivente il vivente non è qui non è un morto è risorto allora come possiamo come possiamo leggere questa cosa beh intanto di che cosa fanno di cosa fa esperienza Maria Maddalena e le sue compagne fa esperienza della perdita ci assomiglia quando vedono il sepolcro vuoto non pensano tanto alla risurrezione di Gesù quando vedono il sepolcro vuoto è quello che accade a noi quando vediamo il letto vuoto di una persona che amevamo quando guardiamo la sua scrivania vuota quando facciamo esperienza diciamolo freudianamente facciamo esperienza del lutto cos'è un lutto il lutto è l'esperienza del vuoto lei non è più qui gli dice non è più qui non è più qui non è più tra noi non è più vivo attenzione cioè il vivente non è più qui non è più tra noi c'è un vuoto e e c'è un dolore del vuoto che Maria Maddalena e le altre vivono dove è finito il nostro Signore non è più qui fanno esperienza della morte di Gesù della scomparsa di Gesù ed è l'esperienza che noi facciamo ogni volta ma al tempo stesso ogni volta il dolore del vuoto che noi sperimentiamo in ogni lutto lei non è più qui non posso più sentire il profumo dei suoi capelli non posso più vederla muoversi non posso più abbracciarla non posso più sentire la sua voce lei non posso più toccarla lei non è più qui lui non è più qui mentre noi facciamo esperienza del vuoto assoluto e quindi del dolore del vuoto facciamo anche esperienza dell'amore cioè il lutto scava nel soggetto scava il soggetto perché è il luogo di un dolore assoluto e di un amore si potrebbe dire altrettanto assoluto questa è una scena che noi vediamo in Giovanni la racconto rapidamente perché non voglio spostarmi da questa formula ma perché è importante il rapporto tra l'amore e il dolore voi avete in mente tutti la scena di Lazzaro avete in mente che le sorelle di Lazzaro rimproverano Gesù dicendo se tu fossi qui fossi rimasto qui non si sarebbe ammalato non sarebbe morto vi ricordate e allora Gesù chiede di essere portato alla tomba al sepolcro di Lazzaro e lì di fronte all'amico morto sono dei versetti molto belli Gesù piange è il dolore mescolato all'amore quando noi pensiamo ai nostri cari che non sono più qui il dolore è l'amore l'amore è il dolore e dunque Gesù piange alcuni giudei i giudei si dividono in due osservano la scena i farisei da fuori e alcuni dicono guarda questo cioè no come è conciato e altri dicono piange cioè prova dell'amore quanto ci teneva Lazzaro piange è innamorato prova dell'amore e dopo le lacrime voi sapete si rivolge a Lazzaro e dice vieni fuori alzati cum questa parola su cui appunto io ho insistito tante volte cum che è la parola onomatopeica che come dire salda il vecchio il nuovo testamento perché la parola cum appare nel vecchio testamento nel libro del profeta Giona quando appunto Dio interviene e sveglia il profeta gli dice cum alzati cum vuol dire alzati ed ha proprio l'idea del colpo cum alzati vieni fuori si potrebbe dire che questa è la parola chiave di Gesù che Gesù non ha fatto altro nei confronti di tutte le persone che ha incontrato di rivolgersi a loro dicendo cum alzati vieni fuori non avere paura e questo fa Lazzaro e Lazzaro si alza e esce fuori ecco perché anche questo è diciamo un modo per liberare la vita dalla paura della morte io non leggo questa scena come la rinascita di Lazzaro non penso che la risurrezione sia una trasfigurazione della morte nella vita io penso che sia anche quella scena di Lazzaro una una invocazione a far sì che la vita non abbia paura della morte che riesca appunto a uscire fuori a stare nella tempesta senza avere paura e questo significa torniamo alla nostra frase perché cercate il vivente tra i morti non è più qui attenzione non è più qui questo significa che la resurrezione è quello che vedremo fra poco la resurrezione non è il contrario della crocifissione cioè che la resurrezione non nega la crocifissione tant'è che se voi avete in mente tutta l'iconografia del corpo di Cristo occidentale voi quando vedete il corpo del risorto vedete le ferite cioè il corpo di Gesù è il corpo crocifisso cioè le ferite restano non è che la resurrezione è una purificazione del corpo di Gesù il corpo di Gesù resta un corpo ferito resta un corpo ferito significa che la resurrezione non cancella la crocifissione e allora qui vediamo intorno al punto vediamo due elementi in questo vuoto che si apre alla visione di Maria Maddalena e delle altre donne allora la prima l'abbiamo visto questo vuoto significa che Gesù non è più tra i vivi non è più tra di noi dunque non possiamo più soprattutto i suoi Maria Maddalena e gli altri non possono più sentire la voce di Gesù toccare il corpo di Gesù vi faccio notare anche che tutte le come si dice tutte le apparizioni post pasquali di Gesù ce ne sono diverse quella più famosa è quando Gesù va a trovare gli apostoli e Tommaso per capire che è davvero lui resuscitato gli mette il dito nel costato no come non ci credi to hai bisogno di questo metti il dito quindi abbiamo le apparizioni ma nelle apparizioni sono fugaci e molto spesso Gesù non è nemmeno riconosciuto come tale quindi noi dobbiamo pensare che la prima esperienza del sepolcro vuoto è l'esperienza di una scomparsa non è più tra i vivi secondo elemento che è l'elemento inaudito che provo molto umilmente ad avvicinare quantomeno è che nonostante o proprio perché Gesù non è più tra noi è scomparso proprio perché uso le sue parole se ne è andato proprio perché Gesù se ne è andato dalla vita cito Giovanni se ne è andato per ritornare tra noi quindi allora da una parte c'è l'esperienza della scomparsa di Gesù Gesù non è più qui ma dall'altra parte questa scomparsa è un annuncio ritornerò tra voi vado cito vado per ritornare tra voi che vuol dire di nuovo io sono morto ma vivo per sempre oppure di nuovo questo è dei Vangeli apocrifi è una delle cose più belle che ho letto in cui Gesù si autodefinisce io sono il giorno che è una bellissima formula il giorno cioè la luce io sono la resurrezione e la vita dunque non posso essere tra i morti seguite se io sono la vita la resurrezione la luce non posso essere nelle tenebre non dovete venire a cercarmi nei sepolcri non dovete venire a pregarmi sulla tomba non sono lì non sono tra i morti una cosa che da bambino mi angosciava una scena dei Vangeli quando Gesù rivolto ai suoi li rimprovera uno dei suoi perché si era attardato a dare sepoltura al padre e gli dice con aria molto diciamo violenta anche lascia stare lascia che i morti seppelliscano i morti vieni con me cioè l'idea che in fondo dove è il il corpo risorto di Gesù non è più nel sepolcro in questo senso la risurrezione non è avere un corpo vivo da morire e poi avere un corpo vivo il sepolcro è vuoto resta vuoto eppure c'è qualcosa che torna c'è qualcosa che torna allora che cosa torna e qui abbiamo due diversi modi di leggere il ritorno del risorto il primo modo è quello di Tommaso Tommaso dice non è più nel sepolcro è scomparso chi mi dà la prova che sia risorto voglio toccarlo e Gesù si presta a questa ennesima prova di stupidità umana come prima gli chiedevano di fare i miracoli di fare i segni di fare il salto in banco adesso Tommaso dice vieni perché devo mettere il dito dentro perché sennò non ci credo come dire Tommaso vuole essere rassicurato noi chiamiamo questo atteggiamento che esige la rassicurazione l'atteggiamento proprio religioso della credenza essere rassicurato che è ancora vivo che c'è ancora e dall'altra parte invece abbiamo la bellissima immagine di Maria Maddalena che ad un certo punto dopo aver fatto esperienza del vuoto del sepolcro è nel dolore nel dolore amoroso che abbiamo descritto vede un uomo quest'uomo è Gesù lo scambia per un ortolano per qualcosa del genere un contadino e poi Gesù la chiama Maria e lei si accorge che è Gesù e dice Rabbi maestro e quando lei si avvicina per attenzione questo è il punto centrale quando si avvicina per toccarlo abbracciarlo baciarlo ristabilire il contatto con Gesù Gesù gli risponde no li me tangere cioè non toccarmi non trattenermi non avvicinarti che cosa vuol dire questo vuol dire che Gesù è morto davvero che la sua morte non è un sofisma non c'è più non lo può toccare non lo può sentire non lo può abbracciare non lo può trattenere ma è questa la potenza della risurrezione cioè la fede non è la credenza che ha bisogno della prova mettere il dito nel costato Maria lo ama non perché mette il suo dito nel costato ma perché ha fede nella parola di Gesù ha fede nel fatto che Gesù sia il giorno cioè che Gesù sia appunto l'acqua sempre viva che sia la risurrezione e la vita dunque è un'unione quella di Gesù e Maria Maddalena su cui Jean-Luc Nancy ha scritto nelle pagine bellissime poi vi leggo proprio un piccolo passaggio ma è in questo contatto senza contatto che si struttura la fede la fede non è quella di Tommaso la fede si dà nell'esperienza della distanza per fare un esempio più basso di vita quotidiana c'è un sermone di Lutero che avevo letto da ragazzo mi è rimasto ficcato nella testa quando lui spiega che cos'è la fede e dice perché la fede non è non dipende dalle prove e quindi Tommaso sarebbe un incredulo diciamo perché l'esempio che fa Lutero molto strano nella sua bocca è l'esempio della gelosia e lui dice prendiamo un geloso un uomo geloso o una donna gelosa il marito o la moglie possono dargli tutte le prove del mondo che non lo tradiscono ma la gelosia rimane intatta quella è l'unica cosa che può sciogliere la gelosia che ci sia fede nell'amore ma la fede nell'amore non dipende dalle opere cioè dalla agenda dal controllo dalla dichiarazione di quello che faccio di chi vedo di chi non vedo perché finché si rimane a questo piano la fede non esiste prevale la credenza e la credenza ha bisogno di prove dimmi con chi sei dimmi con chi sei stato quello dice sono stato con x y non è sufficiente e non sarà mai sufficiente perché l'amore implica la fede nell'altro e la fede va al di là delle prove c'è si potrebbe dire o non c'è la fede implica l'inappropriabilità dell'altro io non non sono padrone del tuo tempo non sono padrone della tua vita non governo la tua vita non so dove sei non so con chi sei non so cosa fai ma ho fede nel tuo amore e questo che differenzia profondamente diciamo così la figura di di Maria Maddalena da quella di da quella di di Tommaso ed è questo è il senso più profondo dell'amore che unisce Maddalena a Gesù cioè dell'amore che riconosce che lui non è più qui non è tra i morti ma è ancora vivo ma il fatto che sia ancora vivo non significa che io possa toccarlo sentirlo che possa trattenerlo è andato via è andato dal padre ma il fatto che sia andato via è andato dal padre non significa che non sia ancora qui mi seguite è andato via ma è ancora qui non c'è più ma c'è ancora allora sentite cosa dice Nancy che si mette nei panni di Gesù insomma lui lo può fare Gesù che parla a Maria Maddalena quindi siamo nella scena che vi ho descritto Maria Maddalena lo vuole abbracciare ma Gesù è morto quindi non può essere toccato e gli dice no limitangere non trattenermi non toccarmi e lì Gesù spiega a Maria che cos'è in fondo un vero amore e dice scusate che mi devo togli gli occhiali che non ci vedo più dice allora qui è Gesù che parla secondo Nancy tu non mi puoi toccare tu non tieni niente non puoi tenere né trattenere niente di me ecco ciò che devi amare ecco cosa ne è di un sapere d'amore ama ciò che ti sfugge ama colui che se ne va ama che se ne vada cioè l'amore implica sempre il mistero della distanza ma la distanza è una forma della prossimità per spiegarvi bene questo vi faccio poi concludo due due almeno due immagini per spiegare bene questo cioè c'è la distanza ma la distanza è una forma di prossimità Gesù è morto non lo posso toccare ma Gesù è vivo è risorto ma il fatto che sia risorto non implica che sia come prima nessuno torna indietro dalla morte si potrebbe dire nemmeno Gesù non torna indietro il suo corpo come era prima noi non possiamo ritornare indietro dalla morte eppure Gesù dice c'è qualcosa che resta vivo nell'eterno che resta eternamente vivo i due esempi sono uno di cui ho parlato in un ultimo libro che riguarda la nostalgia e riguarda l'esperienza della gratitudine che io ho assimilato a questa immagine degli astrofisici delle stelle morte voi sapete che la teoria astrofisica sulla luce delle stelle sostiene che la luce che noi vediamo delle stelle oggi proviene da corpi celesti morti milioni di anni fa è morta la stella ed è viva io sono morto ma vivo per sempre quindi non posso toccare il corpo morto della stella ma la luce mi visita adesso non indietro adesso è una presenza viva nella nostra vita la luce delle stelle e non pensiamo che questa luce delle stelle è luce che proviene da corpi morti è un modo con cui io laicamente leggo il miracolo della resurrezione il sepolcro vuoto è una stella morta che continua a propagare a propagare straordinariamente la sua luce eppure è un luogo vuoto è un luogo vuoto che genera la potenza della luce ed è per questo che io dico che la nostalgia non è semplicemente il rimpianto di quello che non abbiamo fatto di quello che non abbiamo visto di quello che abbiamo perduto del nostro corpo che non ha più la forza di quando aveva vent'anni dei nostri amori perduti delle occasioni che abbiamo perduto guardare sempre all'indietro lascia che i morti seppelliscano i loro morti e invece penso che la nostalgia sia una grande esperienza di gratitudine quello che avviene in ogni vero lutto c'è una formula di Nietzsche molto bella che viene citata da Roland Barthes nel suo taccuino dedicato alla morte della madre dove Nietzsche afferma il lutto non è pregare il lutto è benedire tutto ciò che è stato quindi allora guardo all'indietro non per rimpiangere ma per benedire tutto il cattivo il buon incontro l'amico il nemico chi ho amato e chi mi ha odiato è benedire tutto quello che è accaduto dunque la gratitudine è un modo di entrare in rapporto al passato non melanconico ma attraverso un riscatto di tutto quello che è avvenuto quello che Gesù insegna costantemente non rimanere impigliato a ciò che è stato ma genera frutti questa è la prima cosa e la seconda con cui vi lascio è che è un altro esempio laico di cosa può essere una resurrezione è il biglietto che proprio il filosofo che vi ho citato che è morto qualche anno fa Jean-Luc Nancy lascia ai suoi dopo essere morto è un biglietto di tre parole di tre parole che è un piccolo testamento Jean-Luc Nancy lascia questo biglietto ai suoi familiari ai suoi allievi ai suoi amici e in questo biglietto si legge portatemi con voi che significa per come io lo leggo non venite a piangere sulla mia tomba perché non si può cercare il vivente tra i morti non venite a piangere e a ricordarmi semplicemente com'ero ma fatemi ancora vivere fatemi ancora vivere portandomi con voi fatemi ancora risorgere fatemi essere ancora un vivente grazie 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 grazie